Stavo guardando i siti a proposito dei funerali a Genova. Mi ha colpito tantissimo la compostezza di queste persone. L'abbraccio caloroso al Capo dello Stato che ha chiesto un accertamento rigoroso della responsabilità e mi ha colpito l'applauso lungo verso i vigili del fuoco e verso le forze dell'ordine. I primi sono stati incredibili, non bastano le parole per dare la densità del sacrificio con cui hanno lavorato nelle ore successive al drammatico incidente. E poi mi ha colpito anche l'ovazione, e uso esattamente la parola che ha usato Repubblica, entrano Di Maio e Salvini accolti da un'ovazione. Mi ha colpito perché essere classe dirigente, essere classe di governo che viene accolta da un'ovazione, cioè viene accolta da un senso di fiducia così enorme, soprattutto in quella circostanza, significa avere sulle proprie spalle il peso di una responsabilità enorme. Ma davvero è incredibile, cioè avere il peso di un senso di fiducia che anche in questa circostanza viene rinnovato. Io mi auguro davvero che dal Presidente Conte in giù, e metto anche noi semplici parlamentari di maggioranza, si senta come forza, ma anche come responsabilità, quello che oggi da Genova è partito. Cioè in mezzo ad un dramma, in mezzo ad una situazione drammatica come questa, si sottolinea il senso di speranza, il senso di fiducia. Un sottinteso lungo che è non lasciateci soli, non fate in modo che i poteri in questo Paese possano cancellare i diritti e le speranze delle persone, dei cittadini. Io credo che questo sia il sottinteso dell'applauso con cui i politici, i politici sono accolti non da applausi ma da fischi, ecco io mi auguro che questo sottinteso, questo senso di fiducia partito anche da Genova sia la forza e il senso di responsabilità che caratterizza il governo e la maggioranza. E lo dico abbracciando tutte le persone in una giornata speciale dando la personale parola che nulla resterà coperta da ombre e da opacità, assolutamente.